Nunzio Batturi, imprenditore randazzese, domanda secca, cosa ti spingi a sostenere la candidatura di Francesco Sgroi a sindaco di Randazzo, lui che lo ha già fatto per quattro anni? Grazie e intanto buonasera a tutti. I motivi che mi spingono chiaramente a candidarmi con Francesco Sgroi sono molteplici, sia dal punto di vista emozionale perché chiaramente sento di avere un obbligo con la città dove vivo, dove sono integrato socialmente e chiaramente dove ho formato famiglia. E poi dal punto di vista mediatico ho deciso di metterci la faccia per migliorare le condizioni di ognuno di noi e soprattutto per le generazioni future. A sostegno di Francesco Sgroi è semplice, lo conosco ormai dal 2003 quando abbiamo iniziato un percorso politico insieme, lui da presidente del consiglio, io da consigliere comunale prima e poi da assessore comunale. Ho avuto appunto l'onore di fare l'assessore comunale nella mia città. Oggi girando nelle case dei randazzesi mi rendo conto che si era persa, prima della sindacatura di Sgroi, si era persa la vicinanza nelle istituzioni. Cosa voglio dire? Semplicissimo. La gente era diffidente perché ormai è come se ci fossimo cullati in qualcosa di negativo nella politica. Invece con Francesco diciamo che queste cose sono cambiate. Sono cambiate sia dal punto di vista del dovuto decoro urbano. Dico dovuto decoro urbano perché è una cittadina che si rispetti e che comunque si pensa che si debba migliorare dal punto di vista turistico, culturale. Credo che sia il minimo dovuto il buon decoro urbano. Poi la sicurezza nelle strade è un altro aspetto importante che l'amministrazione Sgroi ha tenuto in considerazione. Ci voglio ricordare a me stesso ma anche a voi tutti le due arterie principali della città che sono state messe in sicurezza. Le due arterie della città perché queste due? Perché in queste due strade si sono verificati degli incidenti anche gravi. E poi non ci dimentichiamo per ultimo le superficie notturna con l'illuminazione notturna che ha salvato tantissime vite. Oggi vi chiedo vivamente di votare Francesco Sgroi sindaco per continuare a migliorare il nostro paese. E se vi è possibile anche di scrivere batturi al Consiglio Comunale. Grazie e buonasera. Grazie a tutti.